Qualche giorno fa si sono registrate violente raffiche di vento e disagi su tutto il territorio occidentano causando diversi danni. I pannelli esterni della parte sud del Palla di Concilio ed Agropoli sono stati dibelti proprio dal forte vento. Nella stessa città l'ambientalista Gerardo Scotti, responsabile del progetto Genesi per la riqualificazione del parco fluviale agropolese, ha raccolto buste piene di plastica e altri materiali a causa del vento che ha trasportato il tutto nel fiume Testene. Il sentiero viene ripulito costantemente, ha dichiarato Gerardo Scotti, in questo caso la fonte di inquinamento è il vento che raccoglie tutti i materiali che trova in giro che restano intrappolati nelle canale. Tre giorni fa il direttore della SARIM ha mandato un operatore che ha ripulito tutta la zona alle spalle del cineteatro dove vi era diversa spazzatura. Molto materiale arriva dal cantiere del palazzetto ma la maggior parte arriva dai ragazzi che di sera bivaccano dietro la struttura. Solo un mese prima ha giunto con un gruppo di volontari avevamo ripulito la zona. Ho chiesto al direttore della SARIM di mandare un operatore almeno una volta alla settimana ripulire quel tratto dove si creano punti di aggregazione, il problema dei rifiuti aumenta e bisogna essere più attenti a manutenzione e pulizia. Evitare che questi materiali trasportati dall'acqua, concluso, finiscano a mare e imperativo per avere un ambiente sano e per la nostra salute. Attraverso delle foto state su Facebook che testimoniano il costante impegno dell'ambientalista, Gerardo ha ribadito questa roba sarebbe finita tutta a mare e da lì nella catena alimentare abbiamo pulito 200 metri su 2 chilometri. In un ulteriore post l'ambientalista ha aggiunto sono due giorni che tiro fuori plastica e bottiglie e case cadute dal fiume. A questo punto sono sdegnato. Il messaggio è chiaro, non possiamo dare solo la colpa al vento ma alle cattive abitudini dei cittadini i quali probabilmente non mettono in conto che recano dei danni all'ambiente in cui vivono ma soprattutto all'ambiente in cui cresceranno i loro figli.